Sì, ovviamente siamo molti contenti con i ritornati, la vittoria e oggi abbiamo fatto bene molti fondamentali. Sì, anche per me il mio performance, il mio performance personale. Sono molto contento perché è sempre importante giocare bene di fronte ai nostri sostegni. Voglio dedicare la vittoria per Cora dopo il suo infortunio che lui ha fatto in Sudafrica. Il mio primo l'anno in Italia era molto bene. A noi piace la città, bellissima. Il club era sempre un'esperienza buona per noi e per questo siamo molto grati. Ho giocato molto di fronte ai nostri fans e è sempre una grande opportunità. Per me Monigo è un stadio speciale. La prossima settimana è molto importante per la nostra squadra perché Codaf è sempre una squadra forte e vogliamo finire la stagione bene alla casa nostra.